Qual è l'identikit dell'alpino? Cappello fiumato con tante targhette, camicia a scacchi con pancia tartaruga ben in vista, bretelle, scarponi belli grossi, occhi brillanti e soprattutto uno sguardo buono. Dopo il giorno di questo, presto di rinvito nella nazione, il rinvito a tutti i nostri amici. Grazie. Grazie a tutti. 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 Tanta gente, tanti fiume, tanto alcol, tanta allegria, tanto.